Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Nei video precedenti abbiamo visto come utilizzare i display LCD alfanumerici. Ora vi mostrerò un sistema per ampliare le possibilità di questi dispositivi, che sono già di per sé molto versatili. Vedremo infatti che con una tecnica particolare è possibile usare questi display in modo da visualizzare numeri di dimensioni molto più grandi rispetto ai caratteri standard, cosa che può tornare molto utile ad esempio quando serve un display che sia ben leggibile anche da lontano. Prima di proseguire volevo invitarvi se trovate i miei video interessanti a iscrivervi al canale e ad attivare anche la campanella delle notifiche in modo da rimanere sempre aggiornati sulle ultime uscite. Buona visione! Nei display alfanumerici i singoli caratteri sono costituiti da matrici rettangolari, formate ciascuna da 40 pixel, disposti in otto righe da cinque. Come vediamo dalla grafica i numeri e le lettere vengono quindi ottenuti accendendo determinati pixel. Quello che non tutti sanno è che oltre ai caratteri standard memorizzati nel chip di controllo è possibile anche programmare alcuni caratteri personalizzati. In questo modo possono essere visualizzati anche simboli o icone definiti dall'utente. Dal punto di vista software questi caratteri sono rappresentati da un array di 8 byte ognuno dei quali rappresenta una singola riga della matrice di pixel. Qua vediamo ad esempio la rappresentazione dell'icona smile. Per comodità i valori dei byte vengono scritti in formato binario. In questo modo risulta evidente la corrispondenza tra i singoli bit e i pixel. Come vedete i pixel accesi sono rappresentati con degli 1 e quelli spenti con degli 0. Una volta definiti i caratteri personalizzati questi possono essere caricati sul display utilizzando la funzione create char della libreria liquid crystal. La memoria del display consente di memorizzarne fino ad 8. Online esistono degli strumenti che permettono di disegnare facilmente i caratteri personalizzati e anche di generare automaticamente il codice da utilizzare con arduino. Vediamo allora come sfruttare questa funzionalità per generare dei caratteri più grandi di quelli standard. Il metodo consiste nel rappresentare ogni cifra utilizzando 6 matrici, 3 sulla prima riga e 3 sulla seconda, nelle quali andremo a scrivere delle opportune combinazioni di pixel. Queste combinazioni vengono memorizzate in 5 delle 8 locazioni disponibili. Vedete che disponendo opportunamente questi blocchi è possibile ottenere tutte le cifre da 0 a 9. Tramite un'apposita funzione si potrà visualizzare la cifra desiderata andando a scrivere i 6 blocchi corrispondenti nelle opportune posizioni. Nella descrizione del video trovate il collegamento ad una pagina con uno sketch che potete copiare e incollare nell'IDE di arduino. Si tratta di un semplice esempio per illustrare questa tecnica che potete però usare come base di partenza adattandolo alle vostre esigenze. Lo sketch funziona sia con i display con interfaccia i2c che parallela cambiando semplicemente una riga di codice. Per il collegamento dei display vi rimando ai due video dedicati all'argomento di cui trovate il link in descrizione. Bene anche per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile e se non l'avete ancora fatto vi invito di nuovo ad iscrivervi al canale. Io per il momento vi saluto e vi do appuntamento ai miei prossimi video. Ciao a tutti!